La cosa che non ti ho mai chiesto, paure, timore di Dio potrebbe succedere questo, Dio potrebbe non farcela, potrebbe essere un fallimento, no? Sai il tuo modo di affrontarlo, qual è il tuo modo di affrontare? Ma paure uno le ha e c'è, deve avere tutti i giorni, quando si cresce, quando si cambia, quando si cerca l'eccellenza, si sfida si stessi, quindi fa paura, fa paura tutti i giorni, è come uno gestisce la paura che è importante, per me è stato un motivo di determinazione, cioè quasi un motivo motivazionale, la ricerca della paura stessa per me è stata la sfida, significa che sto facendo qualcosa che mi spaventa, mi farà crescere. Un'altra tecnica che utilizzavo tantissimo, che ho trovato tantissimo, è anche cercare di meditare con me stesso, di fare un discorso interno con me stesso, per vedere cosa veramente vado a perdere. Una tecnica che ho imparato grazie a te, andare a vedere qual è il peggiore dei casi, ok? Lascio il lavoro, cosa può succedere? Analizzando cosa può succedere, andando a andare proprio estremizzando nel peggiore dei casi, rendono il conto in banca, mi rubano tutti i soldi dentro, rimango veramente senza niente. È una cosa che non potranno mai rubare, la conoscenza di chi sono e cosa sono in grado di fare. Anche se si tratta di trovare il primo lavoro al volo, che mi serve per pagare le bollette e l'affitto, so che lo stipendio più basso che possa prendere, mi potrà permettere di trovare le bollette e l'affitto, mentalmente non ho niente da perdere. Alla luce di ciò, si ha da perdere veramente poco, ma le capacità di guadagno sono estreme. Quando sono partito per non darsi lo stesso identico concetto, cosa ho da perdere? 1.000 euro, che eravamo i miei avieri a quel tempo, e un mese a mia vita, toccavo un mese, 1.000 euro, se non sono finite. Avrei perso 1.000 euro, un mese a mia vita, ma quello che potenzialmente avrei potuto guadagnare, anche se ho una lingua in più, era enorme, ed è questo il motivo in cui ho fatto. Ci sono probabilmente milioni di altre cose che ti chiederai, spero che veramente anche chi vedete questo video troverà qualche stimo come è stato per me. Che cosa regaliamo? Ci voglio regalare qualcosa. Dobbiamo regalare qualcosa, una sessione di coaching con due insieme. Va bene, allora il trentaseiesimo mi piace, avrà una lezione gratuita 1 to 1 con me e Flavio insieme su Skype. Allora guarda, facciamo ancora più di rinclusione, i primi trentasei mi piace e facciamo una live su Facebook, qualcosa ci diventiamo dai, ok. I primi trentasei dai, vai. Se ci sono domande, se qualcosa magari non sta chiaro, se volete approfittare ci trovate o nei commenti sotto YouTube o su Facebook. Ultimamente utilizzo molto più Instagram, quindi se volete, fino a che non cambio il nome, se volete seguirmi su Instagram vedete un po' quello che faccio e quello che farò in Asia nei prossimi sei mesi. Chiocciola Baglio Fabio. Ok, perfetto. Grazie. Ciao! Państwo! Convenziamo! No, ciao! Grazie.